un cocchio della dannazione identico a un taxi di new york infatti è uguale svelte svelte salite a bordo se abbiamo disinfestato da poco il veicolo per la vostra sicurezza non è stato quest'anno scusate noi vorremmo andare in florida la nostra corsa ideale molto costosa avremmo dovuto prendere un taxi pubblico attenzione ma se non sapessimo guidare non avremmo la licenza non hanno gli occhi tempesta separa c'è costato caro quest'option c'è costato